Lui è Rocco e io sono Massimo Bertmuller e sostengo Artist United for Animals. Io da Rocco ho imparato tanto, ho imparato un'attenzione e un amore maggiore per tutta la vita che mi circonda, perché lui la conserva intatta, pura, per l'idea di vita, sacra, negli occhi. E poi mi ha insegnato la lealtà, l'amore incondizionato e vale la pena battersi per loro, come per battersi per tutte le creature più fragili e difese di noi, i bambini, i vecchi, le madri. Gli animali non hanno voce e forza per farlo da soli. Noi abbiamo il dovere di farlo, anche perché sono le creature più belle su questo pianino.